Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Quando vedrete questo video mancherà solo un giorno al mio compleanno e quindi vi ho voluto mostrare quello che sarà il mio look. Io spero che vi piaccia e se volete scoprire che ombretto super luminoso ho utilizzato continuate a guardare il video. Ok, iniziamo subito dal trucco occhi. Ho già applicato il mio soft ochre della MAC, il Paint Pot, come primer occhi ed andiamo ad utilizzare un quad della Inglot che ho composto io al Cosmoprof di due anni fa. Andiamo a prendere il marroncino come colore di transizione. Sono colori super pigmentati, basta davvero poco prodotto per ottenere un risultato veramente ottimo. Ho già fatto, scusate se prima non ve l'ho detto, ma ho già fatto le mie sopracciglia come potete vedere e ho applicato un pezzettino di scotch per guidarmi. Ok, ora andiamo a prendere questo colore qua e lo andiamo ad applicare all'esterno della palpebra e lo portiamo verso l'interno. Sto utilizzando per la prima volta il pennello, il mio nuovo pennello della NYX Professional Makeup, il numero 16 e vi devo dire che mi sta piacendo. Oltre ad essere morbidissimo è anche ottimo per sfumare. Con il mio solito pennello pulito vado a sfumare ancora i bordi esterni, questa volta però senza aggiungere colore panna o altri ombretti perché dopo lo andremo ad illuminare tutto allarcata. Ora vado ad applicare la colla per glitter nel resto della palpebra ed è questa qui della NYX Professional Makeup. La utilizziamo anche questa per la prima volta insieme. Ne metto un pochino nel dorso della mano perché voglio vedere com'è. Però non andiamo ad applicare dei glitter ma applichiamo un pigmento che io ho amato e lo voglio andare a riscoprire, a riutilizzare un pigmento lilla della MAC. Questa è una versione travel, una versione mini insomma. Questo colore lilla molto olografico e lo andiamo subito ad applicare prima che la colla si asciughi troppo. È luminosissimo, io lo amo. Leggermente lo andiamo ovviamente a sfumare qua nel bordo per unirlo con il colore che abbiamo applicato prima. Con l'altro pennello sempre della NYX Professional Makeup che ho acquistato poco tempo fa, questo però è il numero 32, vado ad applicare una puntina di questo viola qua più scuro, sempre nell'angolo esterno, ma davvero una puntina perché come vi dicevo prima sono superscriventi. Faccio una leggera V e con un pennello pulito ovviamente vado a sfumare il tutto. Vado a ricreare una linea sottile di eyeliner con il mio Epic Kink della NYX Professional Makeup e mi vado ad aiutare con uno specchietto. Ovviamente qua sotto abbiamo il fallout del pigmento, classico. Vado ad applicare abbondante mascara ed utilizzo quello della Benefit. Vi ricordo sempre di pulire un pochino l'eccesso dello scovolino per non ottenere l'effetto ciglia-aragno. Ok, basta così. Ora faccio l'altro occhio e torno subito per la base. Eccomi tornata con l'altro occhio fatto, ora possiamo passare alla base. Utilizziamo il fondotinta di Fenty Beauty, nella mia colorazione è la numero 140. Prima vi ricordo comunque di shakerarlo e lo andiamo ad applicare con la sua spugnettina che ho precedentemente bagnato. Mi ci sto trovando benissimo sia con il fondo che con la spugnettina e penso proprio che quest'estate lo ricomprerò di una tonalità più scura, ovviamente, in base alla mia abbronzatura, perché è un fondotinta modulabile. Quindi secondo me riuscirò a metterlo anche quest'estate. Purtroppo qui è uscito fuori un amichetto. E anche qua, speriamo se ne va di nuovo via presto. Benissimo, andiamo a coprire un pochino le occhiaie e questi due nuovi amici con il Lockheed di Kat Von D. Una puntina leggera di Shape Tape per andare ad illuminare ulteriormente qua. È arrivato il momento della cipria. Andiamo ad utilizzare la cipria, quella bianca in polvere libera della Mulac, per fare un leggero baking e la mettiamo leggermente anche sul mento. Ed ora andiamo subito a fissare con la mia Universal della Laura Mercier il fondotinta su tutto il resto del viso. Ovviamente andiamo a togliere il baking. Mi sono dimenticata di mettere il burro cacao. Ed ora completiamo la parte sotto degli occhi utilizzando gli stessi colori che ho applicato sopra. Il viola più scuro e lo andiamo ad applicare nell'angolo esterno. Siccome voglio congiungere il eyeliner con il sotto, vado ad applicare quello che ne rimane della mia profession della Urban Decay, un pezzettino piccolo di nero e poi lo vado a sfumare. Faccio la stessa cosa nell'altro occhio. Ora andiamo ad applicare un pochino di mascara, però andiamo ad utilizzare questa volta quello della NYX Professional Makeup. Anche se lo scovolino è molto più grosso rispetto a quello della Benefit, come formula mi piace di più applicato nella parte inferiore rispetto all'altro. Ok, ora vado a fissare il tutto con il fantastico Glow Setter di Glam Glow, che io amo, come capete. Aspetto qualche secondo che si asciuga lo spray fissante e poi andiamo a fare il contouring con Morfeo della Mula. Lo facciamo ovviamente sul naso e sugli zigomi. Diamo un po' di tridimensionalità. Ok, ora andiamo ad applicare una puntina veramente leggera di questo blush qua, della Christian Breton, che è un color corallo. E appunto si chiama corallo ed è il numero 3048. È super pigmentatissimo e quindi ne basta una punta, ma neanche proprio, cioè scaricarlo anche un pochino sulla mano, perché se no hai di subito. Perfetto, ovviamente vado a sfumare il tutto con un altro pennello pulito. Benissimo, finalmente è arrivato il momento dell'illuminante. Come sapete io amo questo momento. Ed oggi voglio utilizzare un illuminante della NYX Professional Makeup, della linea Born to Glow e questo è il numero 01. Beh, giudicate voi. E lo andiamo ad applicare sotto l'arcata sopraccigliare. Dopo essere diventata una palla stroboscopica manca solo il rossetto. Dopo vari ripensamenti ho deciso di applicare questo gloss della MAC in edizione limitata della Nikko Panda Sugar Coat. Stupendo, ami gloss, non vedevo l'ora di applicarlo. Io spero che il trucco vi sia piaciuto, molto luminoso, molto particolare, sia sugli occhi che con queste labbra glossate che riprendono molto il colore del pigmento. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!